Paura oggi a Borgo Trento dopo l'allarme bomba per un pacco abbandonato in piazzale Stefani davanti all'ospedale. Attorno alle 15 la polizia municipale ha chiuso l'area e il traffico è stato bloccato in attesa dell'arrivo degli artificieri. Dopo gli accertamenti della polizia il pericolo è rientrato. Poco prima delle 16, infatti una volta transennato il piazzale, gli agenti hanno fatto brillare il sacchetto, colpendolo con un getto d'acqua ad alta pressione, rivelando che si trattava solo di una borsa di indumenti. Ad insospettire i passanti era stata quella busta abbandonata in modo a quanto pare volontario da un uomo che più volte si era girato attorno alla pensilina degli autobus. L'area poi è stata riaperta al traffico alle 16.30. È il secondo falso allarme nel giro di pochi giorni, infatti appena lunedì era stata la volta di una valigetta nascosta dietro ad una panchina di una scuola di San Zeno. Qualche minuto prima dell'inizio delle lezioni un residente della palazzina vicina aveva chiamato la polizia. Dopo che gli artificieri con un robot avevano fatto esplodere la borsa, il pericolo e la paura erano passati, nessun ordigno ma il contenuto era solo un computer dimenticato.